Sì, la sagra di Urano ormai si conferma come una delle sagre più atteste, dai visitatori, perché dobbiamo chiamarli visitatori, non più turisti, perché il visitatore è colui che si integra pure, quindi che vuole partecipare attivamente alle bellezze nostre e quindi a tutto ciò che riguarda gli aspetti anche della gastronomia. Dunque sì, è una sagra molto importante, ritengo che funge da pripista proprio per la bella stagione che dovremmo goderci quest'anno per l'estate nostra salentina. Quanto i cittadini hanno partecipato all'organizzazione di tutto quello che è poi l'indotto della sagra dell'Urano? Quest'anno la sagra dell'Urano, intanto i cittadini sono coloro i quali partecipano attivamente, perché la manifestazione è una manifestazione corale, sono più di 400 volontari che ogni anno arricchiscono la sagra e partecipano attivamente con passione, con grande forza, con grande passione. E la bellezza sta proprio qui, in questo racconto che noi continuiamo da 23 anni, è una narrazione che continua e che si arricchisce quest'anno di un evento che voi conoscete già, questo evento che parlerà appunto della dieta mediterranea, dalla natura alla vita. Insomma, quindi l'arricchiamo di questo evento culturale che secondo me è anche un evento che si collega bene con l'Expo, questa grande Kermess che quest'anno accoglie tutta l'Italia. E quindi, sì, invitiamo tutti quanti numerosi, questo è l'invito che faccio a tutti quanti i turisti che sono qui, che già affollano le nostre spiagge e quindi a tutti i salentini e anche, diciamo, ormai diventata quasi nazionale e a chi, insomma, vuole godersi tre giorni di festa. Questa è una sagra che sta fra quelle sette, otto sagre che sono rimaste in Puglia, devo dire, e questa viene molto apprezzata. Io ho visto un servizio su Sky di dieci minuti giorni fa e Sky si è fatta promotore per il prossimo anno di sponsorizzarla totalmente con servizi naturalmente e quant'altro. Bisogna dare atto, bisogna dare credito ai cittadini di Merin, al parroco, a tutte le persone che lavorano intorno, che sono quasi 300 persone del luogo, che lavorano e pensiamo bene che non sono i tre giorni che si lavora, i quattro giorni della sagra, ma per questa sagra si lavora 12 mesi all'anno, si lavora, quindi si lavora tutti i giorni, si prepara, l'indomani che hanno finito smontano in due giorni e cominciano a preparare l'atto per la prossima. Quindi le istituzioni, la provincia, il comune di Lecce, la regione dovrebbero essere molto vicini a queste iniziative, a questi passi che si fanno, possono sembrare piccoli passi, ma sono importantissimi perché quando una sagra porta 100.000 persone che la visitano, cosa si può dire altro? Benvenga, c'è tanta gente che sono turisti e che tornano anche per la sagra, quindi lavoriamo per questo, lavoriamo per portare i turisti, lavoriamo per far star bene i nostri cittadini. Che dirvi, siamo alla ventitresima edizione, è veramente molto bello vedere come anche quest'anno si rinnova questa tradizione per Merine in questo concorso di popolo, è sempre affascinante, almeno al me commuove questa partecipazione di tutta la gente. E poi una cosa molto bella è il fatto che ci siano generazioni diverse, gli anziani con i bambini, i giovani, questo è molto bello. Quindi che dire, quest'anno all'insegna della tradizione, come già saprete, ci sarà anche questa particolarità, presenteremo un nuovo cereale, questo Tridordeum. Vorremmo che la sagra diventasse sempre più un appuntamento anche per quanto riguarda l'alimentazione, una riscoperta della dieta mediterranea, del mangiare bene. E in questo, anche quest'anno, grazie al GAL, ci stiamo impegnando. La sagra vuole fare un salto di qualità da questo punto di vista. Il mio ringraziamento va a tutti gli operatori, i volontari al comitato, senza dubbio, ma alle centinaia di persone che in questi giorni offrono gratuitamente la loro mano d'opera, si impegnano per la buona riuscita della sagra. E anche ringrazio l'amministrazione, sia l'amministrazione comunale, sia anche quella provinciale, perché grazie alla sinergia con le istituzioni che noi riusciamo a mantenere viva questa tradizione e anche ad accrescerla ogni anno di più. Grazie a tutti!